Ce l'hanno con il governo in particolare con il ministro Fornero, gli operai in cassa integrazione dello stabilimento Atitec di Capodichino che questa mattina hanno dato vita a una protesta all'esterno dello scalo aeroportuale di Napoli. I lavoratori rientrano nella fascia dei cosiddetti esodati, gli over 50 espulsi dal mercato del lavoro e non ancora messi in pensione in conseguenza di un innalzamento dell'età o dei requisiti per l'età pensionistica. Secondo i manifestanti il governo ha disatteso i termini di un accordo con Palazzo Chigi del 2008 che avrebbe garantito i livelli occupazionali nella fabbrica. L'accordo infatti prevedeva diminuzioni salariali, aumenti di produttività e l'impiego entro il 2014 di 500 operai. Ad oggi però il personale è meno della metà. In mancanza di risposte i lavoratori dell'Atitec sono pronti a dare vita a nuove iniziative di protesta. Stiamo parlando di persone di 45, massimo 50 anni che domani non avranno lavoro. Questa è la situazione che si è creata e non c'è nessuna speranza di rientro in Alitalia, la nuova Alitalia, perché la nuova Alitalia, CAI, dice quello non è un problema nostro, è un problema della vecchia Alitalia. Quindi tutte queste persone, stiamo parlando di persone con famiglie, sono state messe letteralmente in mezzo alla strada. Noi stiamo pianificando una prossima iniziativa saldando la nostra problematica con gli stessi lavoratori della Lenia, dell'Alfa Sud, della Fiat, di tutti i lavoratori che hanno questo tipo di problemi. Quindi il prossimo appuntamento sarà insieme a questi altri lavoratori. Faremo degli atti anche eclatanti.